Buongiorno a tutti. Allora io voglio dire qualche parola. Domani è un giorno speciale, è un giorno di miracolo. Allora ho tutto, bisogna fare uno per ieri, per tutto il mondo, per avventare pace. Anche io voglio dire qualcosa che questo problema del virus, no? Allora ho paura. Vuoi mangiare bene, pensare bene, dormire bene, parlare bene, basta. Non preoccupare troppo, ok? Allora così faremo le preghiere di Tara, un Taritu Tarituri Soha, un Taritu Tarituri Soha, più possibile contare e così via, ok? Con qualche parte non ho molto problema come a Palermo, allora fare tutti insieme, fare questo mantra, ok? Ciao, ciao. Allora sentiamo presto. Allora vediamo. Ciao ciao a tutti.